Al via Teramo la 29esima edizione del Maggio Fest con appuntamenti dedicati alla poesia, al cinema e al teatro. È il primo festival culturale a ripartire in Abruzzo, un'edizione particolare che si articolerà tra giugno e settembre, un programma di eccellenza che porterà in città volti noti e anteprime cinematografiche, il tutto sotto la direzione artistica del regista Silvio Araclio. Quest'anno è un'edizione molto particolare perché Prudenzialmente abbiamo spostato le date tra giugno e settembre con una via parentesi estiva. Partiamo il 23 giugno con il segno di Dante, con Vita Nova, sono otto sonetti nelle trasposizioni di Daniele Tanasio, che è una poeta che si conosce anche a Teramo, però poi andiamo a luglio, anche qui con Dante, 3 luglio, Piazza Sant'Anna, alle 9, Inferno, nell'edizione rivisitata della nuova pellicola sonorizzata da Edison Studio, la pellicola del 1911, quindi una pellicola muta, e a seguire omaggi festeggianti. Il primo è un ricordo di Nino Manfredi a cento anni della scomparsa, sempre a Piazza Sant'Anna, con pane e cioccolata di Brusati, che è una delle pellicole più diverse, in qualche modo più drammatiche del grande attore. Omaggi festeggianti, ancora il 7 e l'8 alla sala dello Smeraldo, e qui invece abbiamo un gran ricordo di Alida Valli, con uno straordinario film, docufilm che è Alida, l'anno scorso presentato, penso la porteranno anche a Venezia quest'anno, poi a seguire il senso di Visconti, il giorno dopo invece ricordiamo un'altra grande attrice italiana, amata anche in tutto il mondo, Giulietta Masina, anch'essa centana, e quindi un omaggio della morte, con una coppia restaurata della Cineteca di Bologna, Giulietta degli Spiriti. A sostenere economicamente e logisticamente questa bella edizione del Maggio Fest, hanno concorso le maggiori istituzioni cittadine, il Comune, la provincia di Teramo, la Fondazione Tercas, il BIM e l'Università, perché è dalla cultura che riparte il vivere insieme.